Non c'è fine all'emergenza furti nel basso salernitano, preda dei malviventi ancora il Vallo di Diano, questa volta all'area industriale di Polla, dove la notte scorsa una banda formata da quattro persone ha messo a segno un colpo in un cantiere. In un capannone in costruzione di proprietà di un'azienda del posto, i ladri ancora non identificati hanno scavalcato il cancello e rubato cavi di rame dell'impianto elettrico prima di fuggire via a bordo del furgone della società. Un danno che, stando alle prime valutazioni, ammonterebbe a decine di migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di sala Consilina, guidati dal tenente Martino Galgano, che si sono immediatamente messi sulle tracce della banda di malviventi, ma risulta difficile risalire alle loro identità in quanto sono pochi gli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Le immagini, infatti, potrebbero essere fondamentali per identificare i ladri che subito dopo il colpo hanno presumibilmente imboccato la vicina autostrada per scappare via nella notte a bordo del furgone rubato su cui hanno caricato il bottino di rame.